Nel tempo stupendo dell'Avvento, come lo chiama Papa Francesco all'Angelus, il brano di Isaia è un messaggio di speranza. Il profeta al popolo di Israele in esilio riporta l'annuncio gioioso della liberazione. Tristezza e paura lasciano così il passo alla gioia perché il Signore, che con la sollicitudine e la tenerezza di un pastore, guiderà il suo gregge. Un messaggio di speranza che però si può diffondere solo dopo aver provato la gioia consolatrice di Dio nell'ascolto della sua parola, nell'eucaristia, nella preghiera silenziosa o nel sacramento del perdono. Ma solo aprendosi al Signore, con cuore umile e pentito, Egli abbatterà i muri del male, riempirà le buche delle nostre missioni, spianerà i dossi della superbia e della vanità e aprirà la strada verso l'incontro con Lui. Oggi c'è bisogno di persone che siano testimoni della misericordia e della tenerezza del Signore, che scuote i rassegnanti, rianima gli affiduciati, ascende il fuoco della speranza. Lui ascende il fuoco della speranza, non noi. Tante situazioni richiedono la nostra testimonianza consolatrice, essere persone gioiose, consolate. Penso a quanti sono oppressi da sofferenze, ingiustizie e soprussi, a quanti sono schiavi dal denaro, del potere, del successo, della montanità. Poveretti, hanno consolazioni trucate, non la vera consolazione del Signore. Tutti siamo chiamati a consolare i nostri fratelli, testimoniando che solo Dio può eliminare le cause dei drammi esistenziali e spirituali. Lui può farlo, è potente.